Capitolo settimo Per un momento, Denise rimase sbalordita sul marciapiede, nel sole ancora ardente delle cinque. Luglio scaldava le vie, e Parigi scintillava nella luce estiva piena di accecanti riflessi. E la disgrazia l'era cascata addosso così improvvisa, l'avevano cacciata via da un momento all'altro con tanta crudeltà, che voltava e rivoltava in fondo alla tasca i suoi venticinque franchi e settanta, senza accorgersene e non sapendo che fare e dove andare. Una fila di carrozze le impediva di scendere dal marciapiede del paradiso. Quando poté arrischiarsi, attroversò Place Gaillon, come se volesse andare in rue Louis-le-Grand. Poi si pentì e si avviò verso rue Saint-Roch, ma non sapeva dove andare, e così si fermò all'angolo di rue Neuve-de-Petit-Champs, dove alla fine si inoltrò, dopo essersi guardata intorno dubbiosa. Essendole capitata davanti alla galleria Chasseul, vi entrò, e si trovò senza sapere come, in rue Monsigny, per ricascare il rue Neuve-Saint-Agostin. Un gran sussurrio le riempiva la testa. Vedendo un facchino si rammentò della valigia. Ma dove la doveva far portare, e come mai aveva tutti quei pensieri se un'ora prima non le mancava un letto dove riposare. Allora, con gli occhi alzati alle case, si mise a guardarne le finestre. Gli affittasi non mancavano, ma lei li vedeva confusi, ripresa ogni tanto dalla commozione che l'agitava tutta. Com'era possibile che si trovasse così da un momento all'altro sola, sperduta in quella gran città che non conosceva, senza amici, senza lavoro. Eppure bisognava mangiare e dormire. Di strada in strada, per rue de Moulin, per rue Saint-Anne, si aggirava intorno, tornando sempre al solo luogo che conoscesse bene. A un tratto restò meravigliata, era di nuovo davanti al paradiso delle signore, e per liberarsi da quella vista si gettò in rue de la Michaudière. Per fortuna lo zio Bedou non era sulla porta. Il vecchio Elbeuf pareva morto dietro le sue vetrine nere. Non avrebbe mai avuto il cuore di andare da lui. Da che fingeva di non riconoscerla più? Ne avrebbe voluto cascargli sulle braccia per colpa da una disgrazia che egli aveva preveduta. Ma dall'altra parte della strada un cartello giallo la fermò. Camera ammobiliata da affittare. Era il primo cartello che non le facesse paura, tanto la casa era di povero aspetto. Poi la riconobbe. Con i suoi due piani bassi, la facciata color ruggine soffocata tra il paradiso e l'antico albergo du Villard. Sulla soglia della bottega degli ombrelli, il vecchio Burat, coi capelli e la barba da profeta, gli occhiali sul naso, esaminava l'avorio di un bastone. Aveva preso in affitto tutta la casa e, per diminuirsi la spesa della pigione, subaffittava belli ammobiliati due piani. «Avete una stanza?» disse Denise, obbedendo ad un consiglio dell'istinto. Quello levò gli occhiacci di sotto le ciglia. Fu sorpreso nel vederla. Conosceva tutte quelle ragazze. E, dopo aver dato un'occhiata al vestitino pulito e all'aspetto onesto di lei, rispose «Non è per voi». «Quanto costa?» ribatte Denise. «Quindici franchi al mese». Allora la volle vedere. Nella botteguccia, siccome lui seguitava a guardarla con aria meravigliata, raccontò come fosse venuta via dal magazzino e come non volesse dar noia allo zio. Il vecchio, alla fine, cercò la chiave su un palchetto della stanzina buia dietro la bottega, dove si faceva da mangiare e dove dormiva. Una vetrata polverosa la divideva da un cortile interno largo appena due metri. «Vado avanti perché non cadiate», disse Burrà nell'andito umido che fiancheggiava la bottega. Inciampò egli stesso, del primo scalino, e salì moltiplicando gli avvertimenti. «Attenta!» Il ferro per reggersi era lungo il muro. Alla svolta c'era un buco. Qualche volta gli inquilini lasciavano nel mezzo le cassette della spazzatura. Denise, in quella perfetta oscurità, non distingueva nulla. Non sentiva che il fresco del vecchio intonaco stillante umidità. Ma al primo piano, una finestrella che dava sul cortile, le premise di scorgere, come nel fondo di un'acqua stagnante, la scala sconquassata, le mura nere di sudiciume, le porte mal connesse e dipinte. «Se almeno ce ne fosse una vuota di queste stanze», riprese Burrà. «Ci stareste bene, ma le tengono sempre delle signore». Al secondo piano c'era un po' più di luce che rischiarava pallidamente la povertà della casa. Nella prima camera stava un garzone di fornaio. L'altra, in fondo, era vuota. Quando Burrà ebbe aperto, dovette restare sul pianerottolo perché Denise potesse visitarla con comodo. Il letto accanto all'uscio lasciava giusto il posto perché passasse una persona. Di fronte c'era un cassettoncino di noce, una tavola di abete annerito e due seggiole. Gli inquilini che si volevano cucinare qualcosa dovevano inginocchiarsi davanti al caminetto dove c'era un fornello di coccio. «Si sa», disse il vecchio, «la stanza non è di lusso, ma la finestra è allegra, si vede la gente nella strada». E intanto che Denise guardava stupefatta l'angolo del soffitto, dove un'inquilina di passaggio aveva scritto il proprio nome Ernestine con la fiamma di una candela, Burrà soggiunse placidamente. «Se si stesse ad accomodare non ci si riuscirebbe del tutto. Insomma, se lo volete, ecco qui, io vi do tutto quello che ho». «Ci starò benissimo», rispose la ragazza. Pagò un mese anticipato, chiese la biancheria, un paio di lenzuole e due asciugamani e si rifece il letto senza aspettare altro, tutta contenta e con un gran peso di meno sullo stomaco, da che almeno sapeva dove avrebbe passata la notte. Un'ora dopo aveva già mandato un facchino a prendere la valigia e aveva tutto in ordine. Da principio ci furono due mesi di terribile miseria. Non potendo pagare più la pensione di Pepe, se l'era ripreso con sé e lo metteva la notte a dormire su un vecchio canapè prestato da Burrà. Anche facendo del suo meglio, le ci voleva un franco e mezzo al giorno, compresa la piccione, mangiando lei pane solo per dar un poco di carne al bambino. Per i primi quindici giorni tanto tanto tirò avanti. Le erano rimasti quindici franchi ed ebbe anche la fortuna di ritrovare la donna delle cravate e riavere i suoi diciannove franchi. Ma poi la miseria divenne estrema. Ebbe un bel presentarsi ai magazzini, al Place Clichy, al Bon Marché, all'Ouvre, se era nella stagione morta. E tutti le dicevano di tornare ad ottobre. Più di cinquemila impiegati nel commercio, licenziati come lei, erano sull'astrico. Cercò allora di procacciarsi dei lavoretti, ma non essendo pratica di Parigi, non sapeva dove rivolgersi. Faticava molto e non sempre riscuoteva. Qualche sera faceva mangiare solo Pepe con un po' di zuppa, dicendogli che lei aveva mangiato fuori, e andava a letto con la testa che le ronzava e senza sentir la fame per la febbre che le bruciava le mani. Quando Jean piombava in quella miseria, si dava del birbante con tanta disperazione, che lei era obbligata a dirgli delle bugie. Spesso trovava anche il modo di farli scivolare nelle mani un paio di franchi per provarli che aveva dei soldi da parte. Non piangeva mai di fronte ai ragazzi, piena ad un coraggio bello e sereno. Quando la domenica poteva mettere sul fuoco un pezzo di manzo, inginocchiandosi davanti al caminetto, la stanzetta risuonava tutta ad un'allegria di ragazzi che non si danno pensiero della vita. Ma dopo, quando Jean era tornato dal padrone e Pepe era addormentato, ella passava un'orribile nottata nell'angoscia che le dava il pensiero del giorno dopo. Altre paure la sillavano. Le due signore del primo piano ricevevano visite anche a ora tardissima e qualche volta qualcuno sbagliava e veniva a picchiare e ripicchiare alla sua porta. Burra, avendole detto con tutta tranquillità di non rispondere, lei ficcava la testa sotto il guanciale per non sentire le bestemmie. Inoltre, il fornaio che stava accanto di camera voleva divertirsi un po'. Non tornava a casa che la mattina e stava attento a guardarla quando lei andava a pigliare l'acqua. Faceva perfino dei buchi nella parete e la spiava mentre si lavava. Così era obbligata ad attaccare al muro quanta roba avesse, ma soffriva anche di più per l'importunità della strada, per la continua persecuzione di quelli che passavano. Non poteva andar giù a comprare una candela, su quei marciapiedi dove si aggirava tutta la corruzione dei vecchi quartieri senza che si sentisse dietro un alito ardente, il crudo linguaggio della concupiscenza, e gli uomini incoraggiati dal sordido aspetto della casa le andavano dietro fino in fondo all'andito. Ma perché non aveva un amante? Tutti se ne meravigliavano. Pareva a tutti una cosa ridicola, un giorno o l'altro tanto doveva cascare anche lei. Denise stessa non avrebbe potuto spiegare perché si ostinasse a resistere, sotto la minaccia della fame e così turbata dai desideri che ardevano intorno a lei. Una sera, che non aveva nemmeno un po' di pane per la pappa di Pepe, un signore decorato le si era messo dietro. Presso all'andito fu villanamente audace ed essa, con impeto disprezzo, gli sbatté la porta in faccia. Ma quando fu in camera sua, si mise a sedere e le mani le tremavano. Il bambino dormiva. Che avrebbe risposto lei se si fosse svegliato e le avesse chiesto del pane. Eppure bastava che lei dicesse di sì, e la sua miseria sarebbe finita. Avrebbe avuto quattrini, vestiti, una bella stanza. Era una cosa da nulla. Era voce che tutte finissero così, perché a Parigi una donna non poteva vivere col suo solo lavoro. Ma l'animo suo si ribellava, non indignandosi verso le altre, ma ripugnandole per natura le cose disonorevoli e sconvenienti. La vita era per lei logica, giudizio e coraggio. Molte volte Denise scrutò così dentro se stessa. Le tornava in mente una vecchia canzone, La sposa del marinaio, che tra i pericoli dell'attesa conserva l'amor suo. A Valogne soleva canticchiare l'appassionato ritornello stando a guardare nella strada deserta. Aveva forse anche lei un affetto che la faceva così costante. Pensava ancora a Houten con scontentezza. Lo vedeva passare mattina e sera sotto la sua finestra. Da che aveva ottenuto il posto tanto desiderato camminava solo solo tra il rispetto dei commessi. Non alzava mai gli occhi e a lei sembrava di soffrire della vanità di lui, standogli dietro con lo sguardo senza timore d'essere scoperta. Ma non appena vedeva Mouret, che passava tutti i giorni, era presa da un tremito e si nascondeva col petto ansante. Perché fargli sapere dove stava? E poi si vergognava di quella casa, e per quanto non si dovessero vedere mai più, soffriva, immaginando ciò che egli dovesse pensare di lei. Denise, del resto, viveva troppo vicina al paradiso. Non c'era che un muro tra la sua stanza e il suo antico reparto. Subito, appena alzata, ricominciava le sue giornate, sentendo la folla che saliva il frastuono sempre crescente della vendita. I più piccoli rumori scotevano la vecchia casaccia, che s'appoggiava al colosso e batteva, quasi, in quell'enorme polso. Inoltre non le era possibile schivare certi incontri. Si era trovata due volte di fronte a Pauline, che le aveva offerto di adoperarsi per lei, tutta addolorata di sapere che stava tanto male. Aveva perfino dovuto dire una bugia per evitare di ricevere l'amica o di andare a trovarla una domenica da buger. Ma più difficile era per lei difendersi dall'affetto disperato di Deloche. La spiava, non ignorava nemmeno uno dei suoi pensieri, l'aspettava sotto la porta. Un giorno voleva ad ogni costo prestarle 30 franchi. I risparmi di un buon fratello, diceva lui, facendosi rosso come un papavero. E questi incontri la forzavano continuamente a rimpiangere il magazzino e la tenevano al corrente di ciò che vi si faceva, come se non fosse mai uscita. Non saliva mai nessuno da lei. Un bel giorno fu tutta meravigliata sentendo picchiare. Era Colomban. Non lo pregò nemmeno di mettersi a sedere. Da principio il giovane non sapeva che dire. Le domandò come stava. Parlò del vecchio e il boeuf. Chissà che lo zio Badou non l'avesse mandato per riparare al suo rigore. Perché continuava a negare perfino il saluto alla nipote, sebbene dovesse sapere la miseria in cui era. Ma quando Denise domandò al commesso se era lo zio che lo mandava, parve anche più imbrogliato. No, non lo mandava al padrone. E alla fine nominò Claire. Non voleva che parlare un po' di lei. A poco a poco prese animo e osò chiedere consigli, sperando che Denise potesse aiutarlo. In vano lei lo fece disperare, rimproverandogli di far soffrire Genevieve per una ragazza a quel modo. Tornò un'altra volta e prese poi l'abitudine di venire da lei. Al suo timido amore bastava quello sfogo. Non faceva che rifriggere gli stessi discorsi, senza accorgersene, tutto tremante dalla contentezza ad essere accanto a una donna che era stata con Claire. E Denise, anche per questo verso, dovette pensare di più al paradiso delle signore. Verso gli ultimi di settembre la miseria giunse al colmo. Pepe si era ammalato assai gravemente. Bisognava dargli del brodo e lei non aveva nemmeno il pane. Una sera, che non potendone più si inghiozzava di rotto in una di quelle disperazioni che gettano le ragazzi in mezzo a strada o nel fiume, Burra picchiò piano piano. Portava un pane e un bricco pieno di brodo. «Ecco qui, questo è per il bambino», disse con la sua aria da burbero. «Non piangete così, date noia agli inquilini». E, mettendosi a ringraziarlo, con un nuovo scroscio di pianto, «Zitta, zitta! Venite domattina da me, ho del lavoro da darvi». Dopo il colpo tremendo che il paradiso delle signore gli aveva dato con l'aprire un reparto d'ombrelli, Burra non teneva più operaie. Faceva tutto da sé per spendere meno. Lui puliva, lui cuciva, lui accomodava. Ma i suoi clienti diminuivano a mano a mano, in modo che qualche volta non aveva nulla da fare. E così fu costretto a inventare un lavoro qualsiasi, quando il giorno dopo mise Denisi in un cantuccio della bottega. «Come si fa a lasciare che le persone vi muoiano di fame intorno?» «Vi darò due franchi al giorno. Quando troverete di meglio, ve ne andrete!» La ragazza aveva paura di lui, e si sbrigò così presto da quel lavoro che egli dovette scervellarsi a trovargliene dell'altro. Le faceva ricucire la seta, accomodare lettrine. I primi giorni Denisa non osava alzare la testa, sentendoselo intorno con quella criniera da leone invecchiato, quel naso da pappagallo e quegli occhi che sbucavano sotto i ciuffirti delle sopracciglia. Aveva la voce dura, gesti da pazzo, e tutte le mamme del vicinato impaurivano i bambini minacciando di mandarlo a chiamare, come si mandano a chiamare i carabinieri. Ma i ragazzi avevano un bel passare davanti alla sua bottega urlandogli villanie. Pareva che non sentisse nemmeno. Tutta la sua collera di maniaco si sfogava contro quei mascalzoni che gli disonoravano il mestiere a forza di vendere per nulla della robaccia che neanche i cani se ne giovavano. E Denisa tremava quando lo sentivo urlare furiosamente. «L'arte è bella e rovinata! Avete capito? Non si trova più un manico fatto a modo! I bastoni lo so anch'io! Tutti sono buoni a farli, ma i manici! Trovatemi un manico e vi do venti franchi!» I manici erano il suo orgoglio. Non c'era in tutta Parigi uno che sapesse fare un manico come i suoi, forti e leggeri. Si divertiva soprattutto a intagliarne il pomo, con grazie e fantasia, senza mai ripetersi. Fiori, frutta, animali, teste lavorate con disinvolta e viva rappresentazione. Non aveva bisogno che di un temperino e passava le giornate intere con gli occhiali sul naso attorno a un pezzetto di bossolo o debano. «Una folla di ciuchi», andava ripetendo, «che si contentano di metter la seta sulle stecche! I manici li comprano belli e fatti, all'ingrosso, e chi li vuole li pigli, ma l'arte è spacciata!» A poco a poco Denise ritrovò la calma. Voleva un gran bene ai bambini quel povero uomo e aveva fatto venire giù Pepe a fare chiasso in bottega. Quando il bambino camminava a carponi non ci si entrava più. Lei nel suo angoletto a fare i rammenti, lui davanti alla vetrina a intagliare qualcosa col temperino. Ogni giorno riportava le stesse occupazioni e gli stessi discorsi. Mentre lavorava, Burà andava sempre a cascare nel paradiso delle signore e tutte le volte rifaceva la storia del suo terribile duello. Stava in quella casa dal 1845 e aveva un contratto per trent'anni per un fitto di 1800 franchi l'anno. Con le quattro camere ammobiliate ne ripigliava un migliaio, così non pagava per la bottega che 800 franchi soltanto. Senza nessuna spesa, in quel modo, poteva tener duro altro tempo. A sentir lui l'avrebbe spuntata di sicuro. Il mostro gli doveva cadere i piedi e da un momento all'altro si interrompeva. «Delle teste di cane come queste non ne hanno mica loro!» e strizzava gli occhi dietro le lenti per giudicare meglio la testa che intagliava. Una testa che mostrava i denti a guzzi, quasi ringhiasse davvero. Pepe, in estasi, si protendeva verso il cane appoggiando le braccine sulle ginocchia del vecchio. «A me basta campare alla meglio!» ricominciava lui, lavorando delicatamente la lingua del cane con la punta del temperino. «Quei birbaccioni mi hanno rubato tutti i clienti! Ma se non guadagno più, nemmeno ci perdo! O perlomeno ci perdo poco, e piuttosto ci lascio la pelle che dargli alla vinta!» Brandiva, ciò dicendo, il temperino, e i capelli bianchi gli si sollevavano, scossi in un gesto di rabbia. «Ma se vi dessero una somma discreta!» s'arrischiava a dire Denise, senza alzare gli occhi dal suo lavoro. «Fareste meglio accedere!» Allora la sua feroce ostinazione si mostrava aperta. «Neanche se mi ammazzano, giuro davanti a Dio! Anche col capo sotto la mannaia, direi di no! La casa è mia per altri dieci anni, e prima di dieci anni non l'avranno! Dove si crepare di fame tra queste quattro mura!» «Sono già venuti due volte a cercare da calappiarmi! Mi volevano dare dodicimila franchi del mio fondo, e per gli anni da decorrere altri diciotto mila! In tutto trentamila! Nemmeno per cinquantamila! La casa è mia, e li voglio vedere venire a leccarmi calcagni!» «Ma trentamila franchi non sono pochi!» rispondeva Denise. «Potreste andare a stare un po' più in giù! E se comprassero la casa?» Burra, che dava gli ultimi tocchi alla lingua del canino, restò per un istante assorto con un riso da bambino diffuso incertamente sulla sua candida faccia da padre eterno. Poi ripigliò. «Per la casa non c'è pericolo! Parlavano di comprarla l'anno scorso, e ne davano ottantamila franchi, il doppio di quello che vale! Ma il padrone, che era un fruttaiolo a riposo, un volpone come loro, gli ha fatti cantare senza stringere nulla! E poi hanno paura di me, perché sanno che io terrei anche più duro! No, no! Ci sono e ci resto! Nemmeno l'imperatore con tutti i suoi cannoni mi farebbe andar via!» Denise non osava rifiatare e seguitava a lavorare, mentre il vecchio, tra un colpo e l'altro del suo temperino, borbottava ininterrottamente. Quello era il principio. Avrebbero visto, poi, aveva in capo tanto da poter spazzare via tutto il loro reparto degli ombrelli, e, in fondo alla sua ostinazione, si sentiva l'ira del piccolo negoziante che al tempo stesso operaio e lavora da sé, contro lo spaccio frequente delle merci volgari, degli oggetti da bazar. Pepe riusciva intanto ad arrampicarsi sulle ginocchia di Burra, tenendo verso la testa di cane le mani impazienti. «Dammelo!» «Subito, piccino mio!» rispondeva il vecchio con la voce che, a un tratto, gli si raddolciva. «Ancora non ha gli occhi! Bisogna farglieli!» E, seguitando a scavare nel legno, si rivolgeva da capo a Denise. «Ma li sentite? Se azzitissero mai! Quel che mi fa più rabbia è proprio questo, sentirmeli sempre addosso con quel maledetto rumore da strada ferrata!» Affermava perfino che la tavola gli ballava e che tutta la bottega era scossa. Doveva passare le giornate senza un cliente, standosene tra il fremito della gente che faceva ressa nel paradiso delle signore. Dalla mattina alla sera era quello l'unico ed eterno suo discorso. Un giorno dovevano aver fatto un incasso spaventoso. Alle sete non avevano certamente venduto per meno di diecimila franchi. Un altro era tutto contento perché un acquazzone aveva tenuti lontani clienti e i più piccoli rumori gli davano così argomento di chiacchiere infinite. «Sentite? Una è cascato! Si rompessero tutte le reni! Sentite? Le ragazze stanno litigando! Meglio, meglio! Li sentite i pacchi che cascano nel sotterraneo! È una cosa che fa nausea!» Dio guardi se Denise rispondeva qualcosa. Si metteva allora a ricordarle amaramente il modo brutto col quale l'avevano mandata via e la costringeva a raccontarli per la centesima volta tutto quello che lei aveva sofferto i primi tempi. Le stanzette malsane, il vitto pessimo, la guerra fatale degli impiegati. Tutti e due dalla mattina alla sera non facevano così che parlare del magazzino e quasi ne respiravano l'aria ogni momento. «Dammelo!» ripeteva ardentemente Pepe seguitando a tender le mani. La testa di cane era finita e Burà ora fingeva di dargliela. Ora la ritirava indietro con una fanciullesca allegria. «Bada! Ti morde! Via! Divertiti! E non lo rompere se ti riesce!» Poi, riafferrato dal suo pensiero fisso, minacciava col pugno alzato la muraglia. «Fate! Fate! Perché la casa caschi! Non l'avrete neanche se comprate tutto il quartiere!» Denise aveva ora del pane tutti i giorni e sentiva grande riconoscenza per quel vecchio ombrellaio, del quale sapeva il buon cuore nonostante quelle stizzose stranezze. Ma il vivo desiderio di lei era non di meno di trovarsi un qualche altro lavoro, perché si accorgeva che egli, mosso dalla carità, inventava il da fare senza aver bisogno di un operaio in quella rovina del suo commercio. Erano già passati sei mesi e tornata la morta stagione d'inverno e disperava di trovare un posto prima del marzo, quando una sera di gennaio Deloche, che la stava ad aspettare in un portone, le diede un consiglio. Perché non andava da Robineau che doveva aver bisogno di gente? Robineau si era deciso in dicembre a comprare il negozio di Vinsard, con una gran paura di sciupare i 60.000 franchi della moglie. Con 40.000 aveva comprata la specialità delle sete e con gli altri 20.000 entrava in campo. Erano pochi, ma Gojan l'aiutava con la promessa di grossi crediti. Da che si era guastato il rapporto col paradiso delle signore, costui non faceva che pensare a suscitare rivali al colosso e credeva possibile vincere se si fossero impiantati lì attorno dei negozi dove non si vendesse che un solo genere di merci, ma dove le clienti potessero trovare di quella data merce una svariatissima abbondanza. Non c'erano che i ricchi fabbricanti di Lione, come Dumontail, che potessero servire, per le forniture, i grandi magazzini. Con questi davano da fare agli operai, con le case di minore importanza si riscattavano per il guadagno. Ma Gojan non aveva davvero la forza di Dumontail. Dopo essere stato per un pezzo semplice sensale e spedizioniere, soltanto da 5 o 6 anni aveva dei telai suoi propri e doveva ancora dar gran parte del lavoro ad operai cui forniva la materia prima e pagava un tanto il metro. Per questo non aveva potuto combattere con Dumontail quando si era trattato della Parigi Paradiso. Non gli era ancora andato giù e vedeva ora in Robineau l'uomo adatto a dar battaglia campale a quei bazar di novità che egli accusava di rovinare l'industria francese. Quando Denise si presentò trovò Madame Robineau sola. Era figlia di un impiegato del genio civile. Del commercio non capiva niente e usciva da un convento di Chartres. Aveva serbato una certa ingenuità graziosa da collegiale. Era di capelli nerissimi, carina, con una dolcezza allegra che la faceva subito simpatica, adorava il marito e non viveva che di quell'amore. Mentre Denise stava per dirle chi era, Robineau entrò e la prese senz'altro, essendosi per l'appunto il giorno avanti licenziata una delle due ragazze che stavano da lui e che era voluta andare al Paradiso delle Signore. «Non me ne lasciano una che sappia far qualcosa», disse lui. «Finalmente con voi potrò vivere sicuro, perché siete come me, voi. Non dovete volere un gran bene a quella gente là. Venite domani». La sera, Denise penò molto ad annunciare a Burra che aveva trovato lavoro. Il vecchio le diede dell'ingrata, andò sulle furie. Poi, sentendola scusarsi con le lacrime agli occhi e dire che la sua era stata una carità fiorita, si commosse anche lui. Disse che era una bugiarda. Borbottò che invece aveva moltissimo lavoro e che lei se ne andava proprio sul punto in cui stava per mettere in mostra un ombrello inventato da lui. «E... Pepe?», domandò. Il bambino dava molto da pensare a Denise. Rimetterlo dalla Grà non osava e neppure lo voleva lasciare solo chiuso nella stanza dalla mattina alla sera. «Va bene, lo terrò io», riprese Burra. «Nella bottega non ci soffre» e si mangerà insieme. E rifiutando lei per paura di dargli fastidio. «Giura Dio, dunque, non vi fidate? Non ve lo mangerò mica il vostro piccino!» Denise stette assai meglio da robino. Le dava poco, 70 franchi al mese e il vitto soltanto, senza alcun utile sulla vendita, secondo l'uso dei vecchi negozi. Ma era trattata con molta dolcezza, specialmente dalla signora che stava sempre sorridendo alla sua scrivania. Lui, nervoso, stizzito, qualche volta era un po' brusco di modi. In capo a un mese, Denise era divenuta una di casa, come l'altra ragazza, una donnina tisica che stava sempre zitta. Davanti a loro i padroni non avevano segreti e la sera, a tavola, nella stanza dietro al negozio che dava su di un cortile pieno di luce, discorrevano liberamente d'affari. Fu lì che una sera fu stabilito di attaccare battaglia col paradiso delle signore. C'era a pranzo Gojan. Quando venne in tavola l'arrosto, una bella coscia di capretto da buoni borghesi, egli cominciò a parlare della faccenda con la sua voce da lionese, guastata dalle nebbie del rodano. «Così non dura!» ripeteva. «Vanno dal Domontei, per esempio, e prendono per sé la proprietà di un disegno. Comprano in una volta 300 pezze ed esigono un ribasso di 50 centesimi il metro. E siccome pagano quattrini contanti, hanno anche lo sconto del 18 per cento! Domontei spesso non guadagna 20 centesimi, ma lavora tanto per far andare i telai. Un telaio che non va è un telaio che muore. Ma noi che abbiamo tante meno macchine dobbiamo anche ricorrere fuori. Come volete che possiamo resistere?» Robino, senza batter ciglio, si scordava perfino di mangiare. «300 pezze», mormorò. «Edi ho paura se ne piglio dieci a tre mesi. Possono darle a meno di noi un franco, due franchi?» «Ho fatto il conto che i prezzi loro sono più bassi dei nostri del 15 per cento almeno. E così il piccolo commercio va all'aria!» Era in un'ora di scoraggiamento. La moglie, inquieta, lo guardava teneramente. Non ci capiva nulla negli affari. Tutti quei numeri le spezzavano la testa. Era tanto facile ridere e volersi bene. Che bisogno c'era di tormentarsi in quel modo? Ma a lei bastava che il marito volesse vincere per appassionarsi anche lei nella battaglia. Sarebbe morta sulla sua scrivania. «Ma perché tutti i fabbricanti non si mettono d'accordo?» Riprese con violenza Robino. «Invece di assoggettarsi a ciò che vogliono gli altri! Comanderebbero loro!» Gojan, che aveva ripreso l'arrosto, masticava ad agio ad agio. «Ah, perché... perché... bisogna pure che lavorino! Ve l'ho detto! Quando si hanno fabbriche un po' dappertutto, nei dintorni di Lione, nel Garda, nel Lisier, non si può stare un giorno in ozio che subito si perde un subbisso. Noi altri, che ci serviamo qualche volta di chi ha dieci o quindici telai, non abbiamo tanta paura di crescere il magazzino. Mentre i grandi fabbricanti sono obbligati a levarsi di torno alla mercanzia quanto più presto è possibile. Per questo stanno in ginocchio davanti ai grandi negozi. Ne conosco tre o quattro che se li litigano e piuttosto si rassegnano a perdere pur di avere ordinazioni. Si rifanno con i negozi come il vostro. La crisi finirà come Dio vuole. «Ma questa è un'infamia!» concluse Robino, sfogandosi in quel grido di collera. Denise stava a sentire, zitta zitta. In cuor suo, lei stava per i grandi magazzini, che rispondevano all'ideale suo di logica e di vita. Gli altri stavano zitti e mangiavano i fagiolini in erba del contorno. E lei si fece coraggio e disse sorridendo. Al pubblico, però, non gli par vero. Ma Dan Robino non poté trattenersi da sorridere anche lei, con grande scandalo del marito e di Gojan. Bella scoperta. Il cliente era contento perché in fin dei conti ci guadagnava un tanto nel ribasso dei prezzi. Ma dovevano campare tutti. Sarebbe stato giusto che per ingrassare il consumatore si ammazzasse il produttore? E cominciarono a discutere. Denise fingeva di scherzare, pur portando in mezzo argomenti fortissimi. Tutti i mezzani non avevano più niente che vedere. Agenti, rappresentanti, commissionari. E bastava questo a fare un bel ribasso. E poi gli stessi fabbricanti non potevano più vivere senza i grandi magazzini, perché appena questi non si servivano più da uno di loro, bisognava che fallisse. In ultimo, le cose andavano così per naturale svolgimento del commercio, e nessuno poteva farle andare diversamente quando tutti, o per amore o per forza, aiutavano quel moto. «Ma dunque, voi state per quelli che vi hanno messa sull'asterico?» chiese Gojan. Denise arrossì meravigliata essa stessa della vivacità della sua difesa, che aveva mai nel cuore per essersi riscaldati in quel modo. «Ma no, ma no!» rispose. «Forse ho torto io, perché lei se ne intende assai più. Non faccio che dire come la vedo io. I prezzi non sono più fatti da 50 o 60 negozi come prima, ma da 4 o 5 soli che con la potenza dei loro capitali e la larghissima clientela li hanno fatti ribassare. Tanto meglio per chi compra!» Robino non si stizzì. Si era fatto serio e teneva gli occhi sulla tovaglia. L'aveva sentito spesso, lui, quel soffio del commercio nuovo, quello svolgimento di cui parlava la ragazza, e nelle ore di mente lucida si domandava perché mai si ostinava a resistere ad una tale corrente che doveva prima o poi tutto travolgere. La sua stessa moglie, vedendo il marito sopra a pensiero, approvava con lo sguardo Denise, che era modestamente ricaduta nel suo silenzio. «Su, su!» disse Gojan per farla finita. Teorie! Null'altro che teorie! Parliamo del nostro affare. Dopo il formaggio, la serva aveva portato delle marmellate e delle pere. Prese le marmellate e le mangiò a cucchiaiate con la ghiottoneria incosciente di un uomo grasso e grosso cui strapiace lo zucchero. «Ecco, bisogna che voi diate addosso alla Parigi Paradiso, che quest'anno è stata la loro fortuna. Mi sono messo d'accordo con parecchi di miei colleghi di Lione. Vi faccio un'offerta sbalorditiva. Una seta nera che potrete dare a 5,50. Loro danno la Parigi Paradiso a 5,60. Non è vero? Saranno dunque due soldi di meno e basteranno a mandarli a picco.» Gli occhi di Rubino si erano accesi di colpo. Nel suo continuo sussulto nervoso passava spesso così dalla paura alla speranza. «Ce l'avete un campione?» E quando Gojan ebbe cavato dal portafoglio un quadratino di seta si esaltò anche più e si mise a esclamare «Ma è più bella della Parigi Paradiso! Come si fa? Fa più affetto! La grana è più grossa! Avete ragione, bisogna tentare! Questa volta o cascano loro o ruzzolo io!» La signora, presa anche lei dall'entusiasmo, attestò che la seta era stupenda. Perfino Denise credette che potessero vincere. La fine del pasto fu perciò allegrissima. Discorrevano a voce alta, pareva che il Paradiso fosse già in agonia. Gojan, che finiva il vaso della marbellata, spiegava che po' po' di sacrifici dovessero fare lui e i suoi colleghi per dare quella stoffa a quel prezzo, ma piuttosto sarebbero andati in rovina che smettere la guerra, la quale doveva distruggere i grandi magazzini. Quando venne il caffè, l'allegria giunse al colmo per l'improvvisa visita di Vensard, che passando da quelle parti era venuta a stringere la mano al suo successore. «Stupenda!» esclamò anche lui palpando la seta. «Non c'è più dubbio! Li avete tutti nel sacco! Che regalo voglio io! Ve l'avevo detto che questo era un affare d'oro!» Lui si era preso a una trattoria a Vincennes. Era un suo sogno antico, portato pian piano e tranquillamente verso la realtà, mentre si doveva dibattere in Rune of the Petit Shams, tremando di non riuscire a vendere tutto prima della rovina e avendo il proposito di investire tutto quel poco che aveva in un commercio dove si potesse rubare senza timore. Questa idea gli era saltata in testa dopo il pranzo di nozze di un suo cugino. La bocca non soffriva, mode. Figurarsi che avevano dovuto pagare 10 franchi un po' d'acqua sudicia con dentro dei pezzetti di pasta e, davanti ai robinò, la sua contentezza di aver loro appioppato un cattivo affare di cui disperava liberarsi, faceva sì che il suo viso con quegli occhiacci tondi e la grande bocca si spampanasse anche di più. «E i dolori come vanno?» domandò cortesemente la signora. «Che dolori?» rispose meravigliato. «Quei reumatismi che vi tormentavano tanto quando stavate qui?» Si ricordò dei suoi lamenti e non poteva fare a meno di divenire un po' rosso. «Ehm, ne soffro anche ora, purtroppo. Malaria di campagna, capite bene, quel che è certo è che avete fatto un affare d'oro. Se non fossero stati quei maledetti dolori, me ne andavo con 10.000 franchi di entrata prima che fossero passati dieci anni. Parola d'onore!» Quindici giorni dopo era cominciata la battaglia tra Robino e il Paradiso delle Signore. Battaglia rimasta famosa perché tenne per un po' in grande curiosità tutto il mercato parigino. Robino, impugnando le stesse armi dell'avversario, aveva dato grande scalpore con la pubblicità sui giornali. Si era messo inoltre a fare le vetrine con quanta più cura sapeva, ammucchiandovi in colonne enormi la sua seta ed annunziandola su grandi cartelli bianchi nei quali spiccava a lettere cubitali il prezzo di 5,50. Le donne erano tutte sottosopra, due soldi meno che al Paradiso, e la seta pareva anche più forte. Lamarty si comprò per economia un vestito di cui non aveva per nulla bisogno. Alla Bourdelais la stoffa pareva bella, ma preferì aspettare, prevedendo ciò che avvenne. Infatti Moret la settimana dopo ribassò la Parigi Paradiso di 20 centesimi. Con Bourdoncle i co-interessati aveva dovuto combattere assai per persuaderli a vendere a scapito. Quei 20 centesimi erano una perdita vera e propria, da che prima vendevano al prezzo di costo. Robineau, che non avrebbe mai creduto a un tale ribasso perché quei suicidi per la concorrenza che sono le vendite a scapito erano ancora senza esempio, fu colpito terribilmente. I clienti, spinti dal bassissimo prezzo, disertarono da Rue Neuve de Petit Champs e affluirono in Rue Sant'Agustin. Gojan accorse da Lione, discussero e finalmente presero una risoluzione eroica. La seta si sarebbe venduta a 10 centesimi meno, a 5,30. Era un prezzo sotto il quale non poteva scendere chi non fosse ammattito. Il giorno dopo Moret metteva la sua a 5,20. Così, preso il via, precipitarono. Robino vendendo a 5,15. Moret replicò, dandola a 5,10. Tanto l'uno che l'altro non calavano più che un soldo per volta, perdendo grosse somme per ogni ribasso che regalavano al pubblico. Le clienti, tutte contente di quel duello, commosse dai furiosi colpi che si scambiavano i due magazzini per far loro piacere, se la ridevano. Alla fine, Moret osò vendere a 5 franchi. Tutti i suoi impiegati ebbero paura ad una siffatta sfida alla fortuna. Robino, vinto non potendone più, dovette anche egli fermarsi sui 5 franchi senza il coraggio di ribassare dell'altro. Dormivano sul campo l'uno di faccia all'altro, tra la strage delle loro merci. Ma se l'onore era salvo, la sconfitta toccava Robino. Il Paradiso aveva in cassa dei capitali ed una clientela che gli permetteva di guadagnare da una parte quel che perdeva dall'altra. Mentre Robino, sorretto da Gaujan, senza altra vendita che quella della seta, ogni giorno più scivolava sulla via del fallimento. Moriva per la sua temerarietà, per quanto la battaglia gli avesse portata una numerosa clientela. Uno dei suoi tormenti segreti era quello di vedere i clienti tornare poco a poco al Paradiso, dopo tanto denaro buttato via e tanti sforzi fatti per chiamarli a sé. Un giorno perse la pazienza. La Debov era andata nel suo magazzino a vedere dei mantelli, perché alla specialità della seta aveva unito i vestiari belle fatti. La signora non si sapeva decidere, lamentandosi della qualità delle stoffe. Finalmente disse «La loro pareggi paradiso è molto più forte». Robino si frenava e badava ad affermarle che era in errore, con la sua cortesia da negoziante e tanto più rispettosamente in quanto temeva di uscire dai gangheri. «Ma guardate la seta di questa mantiglia», ripeteva lei. «Pare una tela di ragno. Avete un bel dire, ma la loro seta a cinque franchi è un cuoio rispetto a questa qui». Robino non rispondeva più. Col sangue al viso, le labbra strette, proprio in quei giorni aveva pensato il tiro ingegnoso di comprare per i vestiti belli e fatti la seta del rivale. In questo modo Morè, non lui, predeva un tanto. Bastava tagliare il vivagno. «Ma davvero? La Parigi paradiso vi pare più forte?» «Cento volte più forte», rispose la Debove. «Non c'è nemmeno paragone». Questa ingiustizia della cliente, che a qualunque costo buttava giù la merce, mise a repentaglio la pazienza di Robino. E siccome lei continuava a voltare e rivoltare il mantello con una smorfia di spregio, di sotto la fodera apparve un pezzetto del vivagno azzurro e argento che era sfuggito alle forbici. Allora l'altro non poté più trattenersi e disse come stava la cosa. «Meglio parlare che scoppiare». «Bene sì, signora, questa è proprio la Parigi paradiso. L'ho proprio fatta comprare io, proprio così. Guardi il vivagno». La Debove se n'andò tutta stizzita. La storiella si sparse e molte clienti non tornarono più da lui. E lui, in mezzo a quella rovina, quando pensava con terrore all'avvenire, non tremava che per la moglie, abituata a vivere nella pace degli agi, incapace di campare nella povertà. Che sarebbe di lei se una catastrofe lo gettasse sull'astrico con dei debiti? La colpa era sua. Quei 60.000 franchi non gli avrebbe mai dovuti toccare. Bisognava che lei si mettesse a consolarlo. I denari non erano anche di lui? Le voleva bene, bastava. Lei gli dava il suo cuore, intero, e la sua vita. Qualche volta si sentiva che si baciavano nel retro bottega. Poco per volta le cose andarono più regolarmente, ma ogni mese le perdite erano maggiori, con una proporzione lenta che faceva apparire lontana ancora l'ultima rovina. La speranza tenace li sorreggeva, tuttavia, e annunziava sempre la prossima sconfitta del paradiso. «Insomma», diceva lui, «Siamo giovani anche noi, e l'avvenire è nostro!» «E poi? Che importa?» «A me basta che tu abbia tentato a modo tuo», rispondeva lei. «Contento te, contenti tutti, amor mio!» Denise voleva sempre più bene a quei due che si amavano tanto. Tremava per loro, sentiva che dovevano finire in rovina, ma non osava metterci bocca. Comprese allora l'intera potenza del nuovo commercio, e si appassionò per quella forza che trasformava Parigi. I suoi pensieri si facevano più maturi. Una grazia di donna si svolgeva in lei, si svolgeva da quella selvaggia bambina che era arrivata da Valogne. Del resto, la vita sua era abbastanza lieta, per quanto grande fosse la fatica e poco il guadagno. Dopo aver passata la giornata intera al banco, doveva correre in fretta e furia a casa per occuparsi di Pepe, cui Burra, per fortuna, si ostinava a fare da mangiare. Ma c'era sempre o una camicia da lavare, o un grembiolino da ricucire, senza mettere in conto il rumore che faceva il bambino e che le rompeva il capo. Non andava mai a letto prima di mezzanotte. La domenica era il giorno di battaglia. Puliva la camera e lavorava un po' per sé, in modo che spesso fino alle 5 non poteva pensare a pettinarsi. Qualche volta, non di meno, andava spasso non per piacere, ma per ragionamento, portando con sé Pepe e facendogli fare una bella camminata dalle porte di Neuil. Il gran divertimento che si prendevano era quello di bersi una tazza di latte da un contadino che li lasciava riposare un po' nella corte. Jeanne non ne voleva sapere, si faceva sempre più desiderare, andando un momento dalla sorella di tanto in tanto nei giorni di lavoro e poi scomparendo col pretesto d'altre visite. Non domandava più denaro, ma aveva un aspetto di tanta malinconia che la sorella, inquieta, aveva sempre pronti per lui cinque franchi. Era quello il suo lusso. «Cinque franchi!» esclamava tutte le volte Jeanne. «Per Diana! Come sei buona! Ho per l'appunto la moglie del cartolaio! Zitto!» interrompeva Denise. «Non me ne importa nulla di saperlo». Ma egli credeva che intendesse con ciò accusarlo di vanterie. «Quando ti dico che è la moglie di un cartolaio, un pezzo di sposa, vada bene!» Passarono tre mesi. Tornava la primavera e Denise rifiutò di tornare a Joanville con Pauline Bouget. Li trovava qualche volta in Rue Saint-Roch, nell'uscire da Robineau. Pauline, una sera che era sola, le confidò che forse avrebbe sposato il suo amante. Era lei che ancora esitava, perché al paradiso non le vedevano di buon occhio le maritate. Questo disegno di matrimonio meravigliò Denise, che non seppe che cosa consigliare all'amica. Un giorno, che Colomban l'aveva fermata presso la fontana per parlare di Claire, questa proprio in quel momento attraversò la piazza e Denise dovette svignarsela perché il giovane la scongiurava di domandare per lui alla sua antica compagna se lo avrebbe sposato. Ma che avevano dunque tutti? Perché tormentarsi in quel modo. E lei si stimava felicissima di non voler bene a nessuno. «Sapete che c'è di nuovo?» le disse l'ombrellaio mentre rientrava in casa. «No, monsieur Bourat. Ebbene, quei birbanti hanno comprato l'hotel du Villard. M'hanno circondato!» Scuteva le sue lunghe braccia in un impeto di furore che sollevava la sua bianca criniera. «Un pasticcio dove non ci si capisce niente», seguito a dire. «Pare che l'hotel fosse del credito fondiario e che il presidente e il barone Hartman l'abbia ceduto al nostro famigerato Muret. E ora mi stringono a destra e a sinistra da ogni parte, proprio come io stringo, guardate questo pomo di bastone!» La cosa era vera. Dovevano aver firmato il contratto il giorno precedente. La casetta di Bourat, stretta fra il Paradiso e il Palazzo, conficcata lì come un nido di rondine in cima a un muro, pareva dovesse essere schiacciata di colpo il giorno che il magazzino avrebbe invaso il palazzo. E quel giorno era venuto. Il colosso girava attorno al debole ostacolo, lo cingeva con le sue merci traboccanti, minacciava di inghiottirlo con la sola potenza della sua gigantesca respirazione. Bourat sentiva la stretta che faceva scricchiolare la sua bottega. Credeva di vedersela rimpicciolire. Temeva quasi di sentirsi ingoiare egli stesso, con tutti i suoi ombrelli e mazze. Tanto già mughiava la terribile macchina. «Lei sentite, eh? Si direbbe che mangino i muri. E in cantina, nel granaio, dappertutto, c'è lo stesso rumore di una sega che morde l'intonaco. Non ho mica paura, io. Non mi schiacceranno mica facilmente. Non sono mica di cartapesta. Io non mi muovo, neanche se mi scoperchiano il tetto e mi fanno cader la pioggia a catinelle sulle lenzuola». In quei giorni, Mure fece fare a Bourat nuove proposte. Tutto compreso non gli avrebbero dato meno di 50.000 franchi. Il vecchio si infuriò più che mai e rifiutò con insolenze. Li doveva rubare quei birbaccioni. Se pagavano 50.000 franchi, quel che non ne valeva 10.000. E difendeva la sua bottega come una ragazza difenderebbe la sua virtù, l'onore, per il rispetto di se stesso. Denise vide Bourat in pensiero per una quindicina di giorni. Si aggirava febbrilmente. Misurava i muri della sua casa. La guardava dal mezzo della strada come se fosse un architetto. Una mattina, finalmente, vennero degli operai. Era la gran battaglia. L'ombrellaio voleva temerariamente combattere col paradiso, ad armi uguali e si rassegnava al lusso moderno. Quando lo avessero visto splendere nella sua novità, le signore sarebbero tornate certo alla bottega che pareva loro troppo triste. Da principio ristuccarono le screpolature e ritinsero la facciata. Poi verniciarono tutta la vetrina di un verde chiaro e perfino dorarono il cartello. I 3.000 franchi che Bourat teneva da parte come ultimo aiuto andarono così in fumo. La gente del quartiere andava in visibilio e veniva a goderselo in mezzo a quegli splendori, che aveva perso la testa e non gli pareva più d'esser lui. Ne gli pareva ad essere in casa sua tra quelle tinte chiare e quell'oro, con la sua aria spaventata, la barbona e i capelli lunghi. Dal marciapiede di fronte si fermava la gente a vederlo muovere le braccia e scolpire i suoi manici, e lui, preso da una strana febbre, ci si ingolfava sempre più in quel commercio di lusso del quale nulla intendeva. Come Robin ò, così Bourat moveva guerra al paradiso e, argomento di vittoria, aveva esposto il suo nuovo ombrello che doveva poi diventare alla moda. Del resto il paradiso perfezionò subito l'invenzione e la battaglia si fece viva sui prezzi. Burramisi in vendita certi ombrelli di zanella montati in acciaio, impossibili da rompere, dicevano i cartelli, per un franco e 95, ma volle principalmente sconfiggere il nemico coi suoi manici di bambù, di olivo, di mirto, di corniolo, di palma, ogni sorta di manico possibile e immaginabile. Il paradiso, più commerciante e meno artista, guardava più alla qualità della stoffa e vantava i suoi alpagà, le sue sete, i suoi taffetà cotti. Finì col vincere e, Burra, disperato, andò ripetendo che l'arte era bella e fritta e che lui doveva intagliare i suoi manici per divertimento, senza nessuna speranza di venderli. «La colpa è mia», diceva Denise, «come si fa a tenere quelle porcherie da un franco e 95? Dove vi possono trascinare le idee nuove? Ho voluto seguire l'esempio di quegli assassini e peggio per me se crepo». Il luglio fu caldissimo. Denise nella sua mansarda soffocava, perciò, appena usciva dal negozio, pigliava Pepe da Burra e, invece di salire in camera sua, andava a prendere una boccata d'aria nei giardini delle tuierie, finché non chiudevano i cancelli. Una sera, mentre cercava l'ombra degli ipocastani, ebbe un tuffo al cuore. A pochi passi di distanza le era parso di vedere Houten che le veniva dritto incontro. Poi il cuore le prese a battere forte forte. Era Mouret, che aveva mangiato al di là della senna e che si affrettava ad andare a piedi dalla desforge. Al moto improvviso della ragazza per sfuggirgli, lui la guardò e, per quanto fosse già buio, la riconobbe. «Siete voi, signorina!» Ella, stupefatta e commossa che si fosse degnato di fermarsi, non rispose. Lui nascondeva sorridendo il suo turbamento sotto un'aria di amabile protezione. «Siete sempre a Parigi?» «Sì, signore», disse Denise alla fine. Ad agio ad agio si faceva indietro e cercava di salutare e andarsene. Ma Mouret tornò lui indietro e venne con lei sotto le ombre nere dei grandi pocastani. Nel fresco della sera si sentivano le grida dei bambini che più in là giocavano coi cerchi. «E questo è il vostro fratellino, eh?» chiese lui di nuovo, guardando Pepe, il quale, impaurito dall'insolita presenza di un signore, camminava serio serio accanto alla sorella e le forte la mano. «Sì, signore», ripeté Ella, arrossendo al pensiero delle infami calunnie di Marguerite e di Claire. Mouret capì certamente il perché di quel rossore e si affrettò ad aggiungere calorosamente. «Sentite, signorina, io mi devo scusare con voi. Sì, avrei dovuto dirvelo prima. Quanto rimpianto lo sbaglio che altri hanno commesso. Troppo leggermente vi hanno accusato. Ma ormai che il male è fatto, io volevo soltanto dirvi che tutti nel magazzino sanno oggi del vostro affetto per i fratelli». E continuò con una cortesia rispettosa alla quale le ragazze del paradiso non erano molto abituate da parte sua. Denise, sempre più turbata, sentiva ora un'immensa gioia inondarle il cuore. Dunque lui lo sapeva che lei non si era data a nessuno. Tutti e due camminavano in silenzio, accanto accanto, e Mouret cercava di regolare i suoi sui piccoli passi del bambino. I rumori lontani di Parigi venivano a morire sotto le ombre nere dei grandi alberi. «Non posso offrirvi che una riabilitazione, signorina», riprese. «Naturalmente, se volete ritornare al magazzino». «Non posso. La ringrazio lo stesso, ma sono già impegnata con altri». Lo sapeva. Gliel'avevano detto che era da Rubinot. E tranquillamente, come se parlasse a un amico, si mise a discorrere di quest'ultimo e gli rese giustizia, un giovane di intelligenza vivace, ma soltanto un po' troppo nervoso. Sarebbe finito male. Goujean l'aveva imbarcato in un affare grossissimo e ci sarebbero restati l'uno e l'altro. Allora Denise, vinta da quella familiarità, si aprì un po' di più. Lasciò intendere che lei stava dalla parte dei grandi magazzini in quella battaglia, che ardeva fra loro e il commercio minuto. Si riscaldava, citava esempi, si mostrava al corrente della questione. Metteva perfino avanti idee larghe e nuove. Mouret, preso da quella sua grazia schietta, l'ascoltava con meraviglia, cercando di distinguere nel buio, che sempre cresceva, le fattezze di lei. Pareva sempre la stessa, vestita semplice semplice, con la stessa dolcezza di prima sul viso. La piccina era di sicuro maturata nell'aria di Parigi, ed eccola quasi divenuta una donna, che poteva far girare la testa a qualcuno, così giudiziosa, con quei bei capelli sovraccarichi di passione. «Ma siete dei nostri», disse egli ridendo. «Perché restate con i nostri nemici? Per esempio, non m'hanno anche detto che state da Burà?» «Un bravo uomo», rispose lei con un fil di voce. «No, via, via! Un vecchio mezzo matto che mi costringerà a ridurlo sulla paglia, mentre me lo vorrei levare dei piedi facendolo ricco. Ma voi già non state nemmeno con lui. La casa è una casaccia. Ci sta certa gente». Ma si accorse che la ragazza era tutta confusa e si affrettò ad aggiungere «Si può essere onesti dappertutto, e c'è anzi più merito quando uno non è ricco». Fecero di nuovo qualche altro passo senza aprir bocca. Pepe pareva che stesse attento, da bambino precoce, e alzava ogni tanto gli occhi sulla sorella che con la mano ardente scossa da leggeri sussulti lo meravigliava. «Guardate!» riprese allegramente Mure. «Volete farmi da ambasciatore? Avevo l'intenzione di aumentare ancora la somma e domani offrire a Burà 80.000 franchi». «Diteli due parole. Diteli che, a questo modo, si uccide da sé. Forse vi darà retta, vi vuol bene, e voi gli darete davvero un consiglio da amica». «Va bene», rispose Denise sorridendo anche lei. «Farò l'ambasciata, ma non sono per nulla sicura di riuscire». E tacquero da capo. Alzando gli occhi, Mure aveva visto sulla cantonata di Rue d'Alger le finestre illuminate della desforge che l'aspettava. E aveva dato subito un'occhiata a Denise. Nel pallore del crepuscolo la vedeva ora distintamente. C'era paragone fra lei e Henriette. Perché dunque pigliarla calda quel modo? Era un capriccio che non sapeva di nulla. «Il bambino deve essere stanco», aggiunse per dire qualcosa. «E ricordatevi che il magazzino è sempre pronto a riprendervi. Siamo intesi? Basterà che bussiate. E non solo vi apriremo, ma vi daremo tutti i compensi che vorrete». «Buonasera, signorina». «Buonasera». Appena Mure se ne fu andato, Denise rientrò sotto gli ipocastani, nel buio. Camminò per un pezzo senza saper dove andava. Tra gli enormi tronchi, col sangue che le era salito in viso, con la testa rimuginanti idee confuse. Pepe, attaccato alla sua mano, allungava le sue per poterle tenere dietro. Se n'era dimenticata e il piccino finì col dirle «Vai troppo in fretta, mammina!». Allora Denise si mise a sedere sopra una panchina e Pepe, stanco, le si addormentò sulle ginocchia, stretto fra le braccia della sorella che lo serrava al petto di vergine, con gli occhi erranti in fondo alle tenebre. Quando un'ora dopo tornò pian piano con lui in rue de la Michaudière, aveva il suo tranquillo viso di ragazzina assennata. «Giura addio!» le gridò Burà quando la vide. «Il colpo è fatto! Quella canaglia di Morea ha comprato la casa!». Era fuori di sé. Si dava dei gran pugni in mezzo alla bottega, con gesti tanto convulsi che pareva volesse sfondare le vetrine. «L'infame! Ve l'ha scritto il fruttivendolo! E sapete quanto gli hanno dato a lui? 150.000 franchi! Quattro volte quel che vale! Belladro anche lui! Figuratevi che si è fatto perfino contare gli abbellimenti che ho fatto io! Già! Ha fatto valere che la casa era stata rimessa nuovo. Non finiranno mai di canzonarmi così!» Il pensiero che il suo denaro, speso a rabberciare e ritingere, avesse potuto giovare al fruttivendolo, gli faceva perdere la testa. E ora Morea era padrone lui. A lui doveva d'ora in poi pagare il fitto. Era in casa sua e in casa di quell'odiato rivale. Si sentiva portar via dalla rabbia. «Li sentivo io che bucavano il muro! Eccoli qui! Mi par di mangiare nel loro piatto!» E picchiando col pugno sul banco scuoteva tutta la bottega, facendo tremare gli ombrellini. Denise, sbalordita, non aveva ancora potuto dire nulla. Non si muoveva e aspettava che la furia scemasse. Pepe, stanchissimo, si addormentava su di una seggiola. Finalmente, quando Burra si calmò un poco, ella si risolse a fare l'ambasciata di Morea. Il vecchio era senza alcun dubbio arrabbiato. Ma allo stesso eccesso della sua collera, l'imbroglio in cui si trovava, potevano farlo accettare lì per lì. «A proposito, ho incontrato», cominciò lei, «ho incontrato un tale del paradiso, che è benissimo informato. Pare che domani vi verranno ad offrire 80.000 franchi». «80.000 franchi! 80.000 franchi! Neppure per un milione ora!» Lei voleva che ci pensasse un po'. Ma mentre gli stava parlando dei suoi affari, la porta si aprì e Denise si fece da parte muta e pallida. Era lo zio Bedou, con la sua faccia gialla, invecchiato. Burra acchiappò per un bottone del soprabito il suo vicino e, senza che potesse aprire bocca, eccitato dalla sua presenza, gli urlò sul viso «Lo sapete quanto hanno avuto la sfacciataggine di offrirmi? 80.000 franchi! Sono arrivati a questo punto, i briganti! Credono che io mi venda come una ragazza. Ah, hanno comprato la casa e credono di avermi sconfitto. No, non l'avranno mai. Forse avrei ceduto. Ma ora che la casa è loro, se la vengano un po' a prendere». «Dunque, è vero quel che m'han detto», disse Bedou con la sua voce lenta. «Venivo per sapere come stanno le cose. 80.000 franchi!» ripeteva Burra. «E perché non me ne offrono 100.000? Sono tutti questi quattrini che mi fanno rabbia. Credono quei quattrini di potermi far fare una porcheria. Non l'avranno, giuro a Dio, mai, 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 mai!» Denise ruppe allora il silenzio per dire tranquillamente «L'avranno fra nove anni, quando il contratto sarà finito». E per quanto fosse lì presente lo zio, scongiorò il vecchio di accettare. La guerra era impossibile. Troppo potenti erano gli altri. Non poteva, senza essere pazzo, dare un calcio alla fortuna in quella maniera. Ma lui, con la testa, faceva sempre segno di no. Fra nove anni sperava di essere morto. E non trovarcisi al caso. Finché era vivo, non si sarebbe arreso mai. Lo giurava, levando i pugni al cielo, bestemmiando. «Avete sentito, Monsieur Bedou?» ripresa a dire. «Vostra nipote sta dalla loro e me l'hanno mandata perché mi corrompa! Parola d'onore! È d'accordo con quei furfanti anche lei!» Lo zio, fino allora, aveva finto di non vedere Denise. Alzava la testa col moto da burbero, che faceva sulla soglia della bottega ogni volta che lei passava. Ma poco a poco si voltò e la guardò. I suoi labbroni tremavano. «Lo so!» rispose a mezza voce e continuava a guardarla. Denise, cui scappava da piangere, si accorgeva che i dispiaceri l'avevano molto cambiato. Egli forse pensava col sordo rimorso di non averla aiutata, alla vita di miseria che aveva dovuto fare per un certo tempo. Poi, alla vista di Pepe addormentato sulla seggiola, tra il rumore della discussione, parve a un tratto commuoverlo. Denise disse semplicemente «Perché non vieni domani a mangiare un po' di minestra col piccino? Le mie donne mi hanno pregato di invitarti, se mai ti trovavo». Ella arrossì e l'abbracciò. E quando Bedou se ne andò, Burra, contento di quella riconciliazione, gli gridò dietro «Correggetemela un po'! Ha del buono! Io, quanto a me, la casa può venire giù, ma non mi muovo! Mi troveranno sotto i calcinacci!» «Le nostre case crollano già, amico mio», disse Bedou cupamente. «Ci resteremo tutti schiacciati». Capitolo ottavo Tutto il quartiere non faceva intanto che discorrere della grande strada che doveva essere aperta tra la borsa.